Riguardo alla vicenda della Sea-Watch, ricordiamo, è una nave che non aveva firmato neanche il codice di comportamento di autoregolamentazione delle ONG impostato da Minniti, non da qualche cattivone di fascista, leghista, sessista e diciamo fuori dai canoni, anche il serio Minniti aveva fatto un codice di autoregolamentazione delle ONG e questo codice di autoregolamentazione delle ONG non era stato firmato da questi ONG Sea-Watch, barca olandese o tedesca con la bandiera olandese che si permette di fare la politica migratoria dell'Italia, va bene, non l'aveva firmato. Poi ancora qui stiamo a discutere se questa barca va a prendere le persone in acqua territoriali libiche, invece di portarle in Libia come gliel'ordino, invece di portarle in un porto sicuro più vicino come gliel'ordino, le vuole portare a Lampedusa per creare un incidente che lei conosce perfettamente perché è a conoscenza di ogni regola. Oggi c'è un pezzo di Nordio che dice che in un paese normale neanche si discute su questa vicenda, invece nel nostro paese anormale di che cosa si discute? Si discute del fatto che il ministro degli interni ha utilizzato un gergo sbagliato nei confronti di quella delinquente, una che viola alle leggi si può definire delinquente senza prova di nessuna contraddizione in quello che sto dicendo, in quella disonesta. Allora il tema è che Salvini ha detto sbruffoncella, allora pensate che io sia d'accordo con Salvini nel suo gergo? No, per me il gergo come dice giustamente Nordio oggi dovrebbe essere più istituzionale, ma il cretinismo italiano che ha diverse, di sinistra, che ha diverse diciamo declinazioni, guarda il dito, cioè il fatto che il ministro Salvini sia stato poco istituzionale. Non so quando invece l'istituzionalità sia più utile, forse nel caso di Minniti lo è stata, ma è forse istituzionale il ministro, ex ministro del Rio che va sulla nave e con questa specie di ridicola delegazione del PD si presenta, d'accordo con questi rastoni che stanno sulla nave, per capire quando andare a Lampedusa e Faraone, uno dei renziani deputati del PD, dice ci siamo messi d'accordo con loro perché noi saremmo voluti andare prima a Lampedusa, ma poi siamo andati a Lampedusa quando loro hanno bloccato, sono riusciti a rompere la linea di dimarcazione. Ecco, insomma avete capito il concetto? Cioè non è istituzionale Salvini, mentre è istituzionale l'ex ministro del Rio, lo stesso ministro del Rio però. Ragazzi chiudete i vostri wifi, eccoci qua, speriamo che vada un po' meglio perché oggi è sempre un casino, quindi va bene se, come possiamo dire, perché Salvini ha un gergo che non piace. L'altra cosa favolosa sono i commenti, beh oggi c'è un certo Luca Bottura che ovviamente nessuno di voi conosce, un tecnicamente un fallito di Rai 3, cioè uno che quando andava a fare l'autore a Rai 3 la gente si metteva le mani dei capelli dicendo vai via, ti prego, perché aveva queste idee geniali come quella che oggi esprime sul Repubblica, vuol fare lo spiritoso ma oggi non è in grado di fare lo spiritoso, beh e dice il problema è che c'è una donna e quindi i commenti nei confronti di queste sui social e su internet sono di un sessismo incredibile, se la prendono perché la capitana è una donna. No, lo assicuro Bottura, se fosse stato un rastone maschio, se fosse come è stato, perché mi sembra che anche nei confronti di quello precedente, ve lo ricordate quello pieno dei piercing che sembra che aveva uscito da un film di Verdone, l'hanno preso in giro anche lui. Allora, se vogliamo dire che la rete è volgare, che la rete fa degli insulti incredibili, beh questo lo siamo tutti d'accordo, anche nei miei confronti, anche nei suoi, nei confronti di tutti ci sono dei cretini che insultano in maniera ignobile la rete, ma se quel, diciamo, genio totale di Bottura, l'attaccano perché è sessista, vuol dire che lui forse vive veramente solo a Capalbio, oppure vive solo con la Sciarelli, non so con chi viva Bottura, però insomma non ha capito che la rete fa schifo, gli insulti della rete sono orrendi, ma il problema non è che lei sia una donna, il problema è che lei, per una gran parte degli italiani, immagino, ha violato una legge italiana, ha violato una legge che comunque bene o male ha fatto l'Italia e questa legge è stata votata da un Parlamento italiano, ma è un po' difficile farglielo capire a Bottura e a questo genere di persone qua, perché il tema è che Salvini fa schifo e quindi tutti quelli che gli vanno contro sono benvenuti. Favoloso oggi il giornale che fa Forza Capitano, perché ieri la Repubblica fa un pezzo di prima pagina, l'apertura di prima pagina è Forza Capitana, cioè oggi chi viola una norma italiana comunque voluta dal nostro governo è Forza Capitana e oggi il giornale che non è esattamente di Salvini dice Forza Capitano, anche se noi spesso critichiamo Salvini, dice il giornale questa volta ci sentiamo di stare tutti con Salvini e poi un pezzo stupendo del giornale sul papà di Lerner, voi direte ma come si permettono ad attaccare il papà di Lerner? Perché Lerner ieri su Repubblica si era permesso di dire si vergognerà la madre di Salvini, che cosa penserà la madre di Salvini? Ed è straordinario invece il giornale perché si ricorda che cosa pensava il papà di Lerner di Lerner e cioè l'ha querelato, il papà di Lerner querela Lerner perché Lerner in un libro parla malissimo del padre descrivendolo come una specie di personaggio orrendo e quindi il papà lo querela, quindi si diverte il giornale a dire beh non sappiamo cosa pensa la mamma di Salvini di Salvini ma sappiamo quello che pensa il papà di Lerner e cioè che il figlio deve essere querelato. Beh devo dire che è un paese ridicolo perché da una parte c'è questi intellettuali qua, i Bottura, i Lerner, questi intellettuali che salgono sulla nave e dall'altra c'è il ministro sviluppo economico Di Maio che si permette di dire ieri a porta a porta che una delle principali aziende italiane, Atlantia, che ti mi può stare simpatica, non simpatica, per esempio a me questo Castellucci mi sta sonoramente sulle balle, è un classico arrogante, è uno di quelli che ha commesso migliaia di errori di comunicazione, cade il Ponte Morandi, tu stai zitto, chiedi scusa e paghi tutto l'universo delle persone che sono là, chiaro? Ma questo non l'ha fatto, questo arrogante con quegli altri arroganti dei Benetton, quelli che pagano Toscani, insomma mi stanno simpatici? No, ma un ministro che si permette di dire che Atlantia che è il più importante azienda italiana di autostrade ma nel mondo ne ha 30.000 in gestione e gestisce alla grandissima tutti i suoi business, gestisce gli aeroporti benissimo, gestisce le autostrade nel giro del mondo benissimo dove la controllano, beh dire che è decotta, beh insomma è una roba che voi vi aspettereste da Macron o da Sarkozy o da Mitterrand nei confronti che vi posso dire di Vinci che è la concorrente di Atlantia in Francia, tra l'altro Atlantia è una delle poche aziende italiane che va a comprare all'estero, che gestisce l'aeroporto di Nizza, che va in Sud America a comprare, noi facciamo fuori anche una delle poche aziende italiane che funziona definendola De Cotta, nello stesso momento quel genio del nostro ministro dello sviluppo economico ha inserito nel cosiddetto decreto crescita, ha inserito una norma per cui fotte i nuovi acquirenti dell'ILVA perché deve dare un po' di soddisfazione alla sua base, oggi lo dice Garavaglia bene il sottosegretario del ministero dell'economia dice ragazzi tutti noi vogliamo bene all'ambiente ma dobbiamo anche pensare che io che sono lombardo, che facciamo, chiudiamo tutte le fabbriche in Lombardia? Qualcuno dice l'ernero intellettuale ma quando mai? Quindi le uscite di ieri di Di Maio sono veramente imbarazzanti, 30.000 dipendenti, mettiamoci a casa anche i 30.000 dipendenti Atlantia, così siamo tutti belli contenti caro Di Maio, facciamo quella crescita felice che vuole la tua ministra dello sviluppo, noi abbiamo un ministro del sud che ha detto a Taranto bisogna occuparsi di cozze, cioè facciamo il business con le cozze, ma ce l'ha nella testa le cozze, quella che mi voleva prendere a calci nel sedere, l'Alezzi mi voleva prendere a calci nel sedere perché dicevo che era sbagliato non fare la TAP, cioè quel tubo e soprattutto trovavo incredibile che i bambini fossero stati utilizzati dai genitori per fare i picchetti, ma non è a prendere a calci nel sedere, poi io quando le invito ovviamente sono corretto gentile perché io lo sono con tutti quanti essendo padrone di casa, ma vi sembra un'alternativa all'acciaio fare le cozze? Utilizzare Taranto per gestire le cozze? Poi chi è che aiuta i tarantini? L'Alezzi che non ha mai fatto un lavoro in vita sua? Suo fidanzato? Io? Mio fidanzata? Mia nonna? Mia moglie? Chi è che gli aiuta? Chi è che gli trova il lavoro? Eh? Chi gli trova il lavoro? Vabbè, possiamo, è così quello con la cresta, qualcuno se lo ricorda. L'altra storia pazzesca di oggi riguarda invece bimbi nel Reggiano, cioè questi bambini a cui veniva fatta con una scatoletta magica addirittura con degli elettrodi fatto ricordare un passato che non avevano e cioè di maltrattamenti da parte dei genitori. Trenta bambini che vengono affidati a delle strutture di sorveglianza perché è delle case famiglia. È esattamente la storia di Pablo Trinca che voi avrete visto a Matrix di veleno della Bassana Mondenese e c'ha buon, diciamo, c'ha buon senso quello che scrive il nostro Giuseppe Marino sulla prima pagina del giornale. Ma è possibile che a 80 km di distanza la stessa storia magistrati, assistenti sociali, psicologi che tolgono i bambini alle loro famiglie e le mettono in casa famiglia dove ci guadagnano 3.000 euro al mese. Insomma, il business di togliere i bambini alle proprie famiglie per dire perché erano stati, su adison, violentati, maltrattati dalle famiglie di origine. Io la trovo una cosa mostruosa. Non so se ci sia cosa peggiore di poter togliere un figlio della propria legittima famiglia come ha dimostrato veleno e come questa inchiesta, che è tutta da verificare, però sembrerebbe dimostrare. Staremo a vedere e ne parleremo sicuramente a Quarta Repubblica perché non glielo lasciamo passare liscia una cosa di questo tipo. Sulla procedura di infrazione c'è una cosa incredibile. Ci sono due cose economiche incredibili. Ieri hanno fatto un'asta dei buoni del tesoro poliennali, cioè i BTP a 5 anni e 10 anni. Non ne hanno venduti tanti, mi sembra 2 miliardi e mezzo con una richiesta doppia. Ma la cosa incredibile è che è diminuito il tasso di interesse su questi BTP a 10 anni di mezzo punto percentuale, 50 punti base. Ma com'è possibile? L'economia è morta, quel di Maio dice una cazzata dietro l'altra, la procedura di infrazione, apro parentesi e chiudo parentesi, che forse verrà rimandata di tre mesi, ma i giornali oggi non ne parlano con grande evidenza. Bene, sono diminuiti i tassi di interesse in asta, che è l'unica cosa che conta. Ne spiega benissimo. Oggi mori a lungo sul sole 24 ore da par suo in maniera chiarissima. Abbiamo venduto 250 miliardi di titoli di Stato nei primi sei mesi dell'anno e noi dobbiamo vendere 400 durante tutto l'anno. Ma nelle ultime aste abbiamo avuto dei tassi di interesse straordinariamente bassi rispetto agli standard. Ma scusa, voi prestate soldi all'Italia e che pretendete a 10 anni soltanto il 2%. È una cosa da pazzi. È vero che in Germania è addirittura negativo il tasso di interesse. Ma questa vicenda, cioè della riduzione dei tassi di interesse, deriva dal fatto che siamo bravi noi? No, deriva dal fatto che c'è un signore che ha detto il 18 di giugno di quest'anno, cioè Draghi, che continuerà la sua politica monetaria espansiva. Dunque, non vi fate fregare i tassi di interesse sul nostro debito pubblico. In parte, solo in risidua piccola parte, cari Cottarelli, cari Fubini, cara Repubblica, caro sole 24 ore, tranne Moria Longo, dipendono dalle minchiate enormi che fa questo governo. Il 90% dell'andamento dei tassi deriva dalla Banca Centrale Europea, con le sue politiche più o meno espansive fatte a Francoforte. Chiaro il concetto? Perché se non fosse chiaro questo concetto stiamo sempre lì a utilizzare il forza spread, come sembra che qualcuno lo utilizzi, contro questo governo. Il decreto dignità si critica perché è una minchiata. La lotta all'Ilva degli indiani si critica perché è una minchiata, o ad Atlantia perché è una minchiata, non perché fa aumentare lo spread. Lo spread purtroppo non dipende più da noi, meno male che voi lo possiate pensare. Ultima questione, direi che per i giornali c'è poco, se siete appassionati di questioni di finanziamenti di soldi, l'amministratore delegato ex della team se ne va via, entro 30 giorni la team deve dare 4 milioni e mezzo. Entro 30 giorni la trovo straordinaria, questo Genish, che secondo me è stato un annetto in team. Devo dire che tutti noi vorremmo fare la sua fine, un po' come quella che non ha fatto Fazio, perché secondo quello che dicono oggi i giornali si sarebbe ridotto il suo stipendio del 10%, ma non toccate la casa di produzione perché lì non voglio che ci sia nessuna riduzione. E grazie, la casa di produzione è sempre sua, almeno al 50%, un genio totale. Si riduce del 10% il suo stipendio, da 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 5, arriverà a 2 milioni all'anno. Per me va benissimo che si porti quello che vuole, ma la vera scandalo lì non è lo stipendio suo, ma che chi produce, che tempo...